quindi recuperiamo le premiazioni esatto perdute questa qua era un premio giovane promessa di febbraio 2024 quindi vorrei che accoglieste con un grandissimo applauso la nostra Hillary Aurora l'ho chiamato con il tuo cosplay scusa allora prendiamo la nostra coppa eccola eccola qua premia la nostra Oriana e ricordo che ogni coppa è abbinata all'esclusiva spilla MJ Cosplay vale quasi più la spilla della coppa ecco qua tutta tua perfetto no molla lo scettro alla nostra tema e fa bene resti con noi vieni pure con noi no come no stai qua no non ha voglia dai un secondino soltanto sei così ecco sta dando un sacco di istruzioni il nostro Gabbiadini esatto no ti vogliamo qua perché non capita tutti i giorni davvero una divinità greca sul palco capito ora invece proseguiamo con un premio miglior gruppo che risale a Nappiera e Mg Cosplay del 4 agosto 2024 e l'avevano vinto i demoni del rock Anna Maria e Simone e facciamogli un bel applauso è con grande onore che vi assegno questa meritatissima coppa per miglior gruppo e vedremo se riusciremo a fare il bis oggi giorno oppure vedremo come andà la gioia stringiamoci allora complimenti grazie ancora ce l'abbiamo fatta finalmente con questo premio qua è stato sudatissimo mi raccomando arrivate a casa posti che incollatelo su una mensola così non va più via ok grazie mille grazie ai demoni del rock e grazie alla nostra bellissima Athena complimenti ancora abbiamo recuperato il backlog come si dice nel business ci ha presentato la nostra Athena come Ilari ma Ilari la cosplay che ha portato ricordo è la piccola grande Aurora perfetto bene allora direi che possiamo fare allora i nostri ringraziamenti di rito ricordiamo ringraziamo in particolare il centro commerciale settimo e officina media event senza i quali sarebbe stato impossibile organizzare questa fantastica gara ringraziamo Your Cosplay che ha fatto sta facendo e continuerà a fare questi fantastici video e le dirette siamo in diretta è vero siamo in diretta su youtube ciao mamma vabbè sempre Your Cosplay siete così avanti che se vi girate vedete il futuro e quindi proseguiamo con i ringraziamenti per MJ Cosplay e tutto lo staff di cui facciamo parte anche noi che siamo solo una piccola percentuale di facciata il nostro fotografo il nostro fonico la nostra Elka Clark non sto qua a dire tutte le mansioni in casa se no non finiamo più allestimento palco social media manager ragazza immagine che più della fine metta per non dimenticare anzi lo insieme alla fine perché racchiude tutto questo il nostro direttore artistico Maurizio Gabbia Dini perfetto allora ok se siamo d'accordo io vorresti anche sì ti avevamo ti avevamo ringraziato ti avevamo un attimino ringraziato se com'è grazie se vuoi restare per una grazie a tutti allora a noi fa piacere essere ancora qua perché questa è la nuova stagione MJ Cosplay giusto mi fa piacere essere ancora con te di non essere stato licenziato a bastonate vuol dire che l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro e niente vuoi dire due parole su questa nuova stagione niente parte la nuova stagione oggi e terminerà a settembre del 2025 con l'evento che si terrà al parco delle terme di Boario seconda edizione facciamo già non è ancora ufficiale ma la riunione è stata fatta si parla di se non erro 21-22 settembre comunque quel weekend dove faremo la finalista prossima over 9000 esatto di tutte le categorie di tutti i partecipanti che hanno vinto durante l'anno il premio assoluto esatto perfetto oggi chi lo vincerà secondo lei io non posso sbilanciarmi ho le mie preferenze lei si sbilancia a me mi hanno pagato per dire che vincerà Tony Stark però non ha partecipato facciamo vincere lo stesso se vincesse lui sarebbe veramente spettacolare il pubblico tanto non si accorge il pubblico che non ha partecipato quindi io ho le mie preferenze che tengo strette per me poi non ha partecipare lo stesso è tutto questo è tutto